a porco di merda ciao ragazzi guardate che capilla astronomici allora ma voi pensate veramente che potete scrivere quello che cazzo vi pare sopra un social c'è sotto i commenti proprio di insulti assurdi perché comunque ci sono anche delle risposte se non subito però ci sono e poi ve la prendete cioè già ci sono problemi esistenziali problemi economici problemi di patologie ecco come la mia magari io ho già problemi di questa patologia che mi porta avere delle conseguenze no avere questa coprolalia che disturba me soprattutto a me disturba me ma avere una patologia è pesante ragazzi è pesante però uno non è che si lamenta fa la vita normale ma no no non la puoi fare perché a porco di merda non ti puoi non puoi no non ti puoi non puoi andare sui social no no non puoi andare perché disturbi i bambini ma i bambini se vedono gli insulti che fate voi come scrivete ti imparano a scrivere così poi se ti lamenti a porca della madonna eh vabbè ma ne fa la vecchia e cazzo però è ma non fa la vittima ma dai su ti ammalatiti una patologia ci fa la vita per farti combatire eh dai su la compassione non è una bella cosa infatti non è una bella cosa quindi non ti puoi lamentare perché tante volte uno magari sai si sente un po' pesante no perché come stavo a dire i soldi non soldi i bank non bank i christ non christ madonna e madonna però voglio dire patologia escludendo ci sono altri anche problemi no che abbiamo tutti in più ci sta anche questo quindi ti lamenti mi va buono cioè a volte uno dice vabbè mi convido un po' mi lascia andare perché proprio sai mi è pesante viverla tutti i giorni quindi ti lamenti non va buono ridi e scherzi perché comunque sia è così che si affronta la vita a porca di merda si ride si scherza e comunque la vita si prende in giro la vita è bella perché una però la devi prendere con filosofia con con la giusta leggerezza la giusta leggerezza no diventi una persona scialpa però la giusta oddio oggi mi fa male burlacocci atroce atroce perché quando faccio i momenti così è come vuoi la manda quando faccio i momenti così mi fa male mi fa male tanto quindi con la giusta leggerezza ci sorridi si sorride alla vita no perché sennò diventa troppo pesante e quindi non sei creduto perché dice no non lo fa poi ma che cazzo è fai poi ma poi veramente ripetendo ma voi pensate che potete scrivere proprio come cazzo vi pare e quelle che vi pare no anche no no